Nel archivio di Stato si parla di un'immediata soppressione di tutte le sezioni e Bassano è una sezione. Il programma dice che entro il 2016 deve avvenire questa già forte riduzione. Potrebbe avere ormai i giorni contati l'archivio di Stato di Bassano, che come già avvenuto per la motorizzazione prima e il Tribunale poi, rientra a pieno titolo tra i servizi pubblici decentrati, destinati alla chiusura. Bassano dunque ancora una volta rischia di perdere pezzi e in questo caso anche parte della sua storia. Che fine farebbe tutta la documentazione che è qui? È bello, questa è una bella domanda, che fine farebbe? Si parla dei grandi poli archivistici integrati, no? Grandi poli. E il destino di Bassano potrebbe essere quello di veder trasferiti i suoi documenti storici a Vicenza o, peggio ancora, nel nuovo polo archivistico di Verona. Per questo già da tempo Archivio e Comune sono all'opera per cercare una soluzione alternativa. Ma cosa si può fare? Per rallentare, ad esempio, questa operazione, rallentarla per consentire a chi sta a Bassano e chi può essere interessato di pensare e di fare una proposta alternativa. Nel caso di Bassano una proposta alternativa in realtà c'è. Il vecchio progetto di mettere insieme Stato e Comune, Archivio storico comunale. Il Comune è stato interessato per questo, il Sindaco si sta mettendo all'opera, so che è stata inviata una lettera al Ministro e alle direzioni generali. Gli spazi per un archivio comunale non mancherebbero, basti pensare al Tribunale, vecchio o nuovo, poco conta. Ciò che conta è che Bassano salverebbe una fetta importante della propria storia. Grazie. 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 Grazie.